Dalla maleducazione si è passati alle offese e poi alle minacce, un continuo crescendo di comportamenti inaccettabili ai danni degli ausiliari del traffico che da ora in avanti non saranno più tollerati. Con questa motivazione Pesaro Parcheggi ha annunciato di aver depositato tramite legali una querela nei confronti di dieci soggetti, autori di post e commenti pubblicati su Facebook considerati diffamatori e minacciosi nei confronti dei propri dipendenti. Dopo il comune di Pesaro che già in primavera aveva dichiarato che non sarebbero più stati tollerati i toni oltraggiosi che sempre più spesso appaiono sui social network, anche la società di gestione della sosta ha detto basta. C'è stato un vero e proprio escalation, come dicevo, nei confronti degli ausiliari del traffico che sono pubblici ufficiali e che svolgono il loro lavoro con competenza, un lavoro complicato, difficile dove ci sono delle sanzioni da combinare. Purtroppo quello è il loro lavoro e bisogna che la gente si renda conto che lo fanno proprio perché gli compete secondo le leggi, secondo i regolamenti e applicano quelli semplicemente nella tutela della cosa pubblica. Le minacce attraverso i social purtroppo sono continuate ad aumentare e questo ci ha visto muoversi in quel senso proprio nella tutela dei nostri lavoratori, dei nostri dipendenti che si meritano di essere lasciati tranquilli e soprattutto di essere messi in grado di svolgere il loro lavoro in completa sicurezza e in completa tranquillità. I fatti risalgono all'11 agosto scorso quando un utente aveva pubblicato sul profilo Facebook un post offensivo a seguito di una sanzione ricevuta per il mancato pagamento della sosta. Il post era stato poi condiviso dallo stesso autore e da altre persone su alcune pagine e gruppi locali, innescando una serie di insulti e diffamazioni contro gli ausiliari del traffico. Ma non solo, perché era sfociato in un vero e proprio invito alla caccia all'uomo. Considerata la gravità, ha precisato Luca Pieri, presidente e amministratore unico di Pesaro Parcheggi, avevamo provveduto ad informare subito le forze di polizia segnalando il temuto pericolo per l'incolumità dei dipendenti. Questa cosa non era tollerabile e per questo ci siamo mossi e così continueremo a fare anche nel futuro, proprio perché non è giusto e proprio perché attraverso i social il rischio reale è quello che non ci si renda conto, che si innescono vere e proprie minacce sociali che possono sfociare anche in atti di violenza e questo noi come Pesaro Parcheggi e noi credo come città di Pesaro non possiamo e non vogliamo che succeda e non possiamo permetterci. Grazie.